C'è crisi nel gruppo dei discepoli. Come molte crisi nasce da una richiesta di potere e di prestigio. Giacomo e Giovanni hanno chiesto di essere considerati i primi dopo Gesù, quando lui avrà vinto. Di quale vittoria si tratti non lo hanno ben capito, ma poco importa. Anche di fronte agli avvertimenti di Gesù si sono detti disposti a tutto pur di essere i primi. Gli altri discepoli sono indignati e pietosamente Marco non ci informa se si tratti di indignazione per senso di giustizia o piuttosto per timore di essere considerati meno importanti, di avere meno potere degli altri due. Gesù avrebbe molte possibilità umane per uscire dalla crisi. Quella di non darle peso con tutto quello che c'è da fare. Bisogna andare a Gerusalemme, vi perdete in queste sciocchezze. Quella di dare ragione alla maggioranza, rimproverando e stigmatizzando Giacomo e Giovanni. O al contrario, quella di stare dalla parte dei due, riconoscendo in loro una giusta ambizione ad emergere. Oppure ancora, Gesù potrebbe ergersi al di sopra della sua comunità e rimproverarli di non avere ancora capito nulla, chiedendo loro di seguire lui, il capo, in modo cieco e assoluto. Sottostimare, schierarsi, giudicare dall'alto in basso. Tutte tentazioni nelle quali noi esseri umani finiamo facilmente intrappolati di fronte a una crisi. Si tratti di una crisi comunitaria, nelle nostre piccole chiese, come le crisi economiche, sociali e politiche che travagliano il nostro mondo. Ma non Gesù. Lui utilizza un'altra strategia. Chiamatili a sé, ci dice il testo. Il Signore, consapevole del ruolo della comunità dei discepoli, sa che bisogna innanzitutto rinsaldare i nodi che li tengono insieme. Non sottovaluta la crisi, anche se agli occhi del mondo secolarizzato e nevrotico di oggi sembra che decida di perdere tempo. Si ferma. Ma in quel chiamatili a sé c'è tutta la forza della proposta che il Signore fa i suoi ieri e oggi. C'è la formulazione di una prassi di fede che non può e non deve sottostimare la forza e il piacere della comunità riunita. In questo sinodo quanto siamo consapevoli che è il Signore che ci chiama a sé. Oppure siamo venuti qui con alcune idee fisse e vogliamo farle passare a tutti i costi. Quanto tempo, energie, quanti fratelli e sorelle perdiamo nelle nostre comunità perché alcuni vogliono imporsi agli altri, perché continuiamo a giudicarci reciprocamente senza avere più il senso della vocazione cristiana e comunitaria che ci sospingono. Quante inutili discussioni a partire da schieramenti contrapposti senza sentire davvero l'esigenza di essere chiesa tutti insieme. Permettetemi un aneddote personale, ce ne saranno altri. Anni fa, per spiegare ai miei catecumeni la centralità, la bellezza del sistema assembleare protestante, democratico, e ci credo profondamente, obbligai i miei catecumeni, non dico in quale comunità, a venire in massa a un'assemblea di chiesa. Nel primo incontro dopo di essa mi sentii dire, cosa c'è di speciale in quattro vecchietti che litigano? Eppure a me era sembrata un'assemblea bella vivace. Ecco, insomma, forse riscoprire che in tutti i momenti della vita cristiana c'è Gesù che perde il suo tempo per chiamarci a sé. Questa mi pare essere una delle urgenze della nostra vita comunitaria e della nostra riflessione di fede. L'urgenza della nostra ecclesiologia, il sentirsi chiamati dal Signore. La consapevolezza che siamo e facciamo chiesa perché c'è un Signore presente che vuole riunirci intorno a sé, non per dare ragione agli uni o agli altri, ma neanche per sgridarci per la nostra comprensione inadeguata, ma per indicarci che c'è sempre un'altra via. Gesù infatti si ferma per ricostruire comunità, chiama i discepoli a sé e lo fa perché essi possano ascoltare un suo nuovo insegnamento. E ancora una volta il Signore ci sorprende. Non parte dalla Bibbia, ma parte dal mondo. Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Avete sette di potere e di vittoria? Guardatevi attorno. I principi delle nazioni, i tiranni, i cesari si sono dissetati a questa fonte. Voi sapete a quale prezzo questo sia accaduto. Guardatevi attorno e vedrete le conseguenze di questa brama sulle persone e sui popoli. Sono i principi delle nazioni quanti hanno anteposto alla finanza, alla salute, allo stato sociale, al lavoro dei giovani e che costringono i nostri figli e le nostre figlie a emigrare. Sono i principi delle nazioni quelli che nel nome di Dio vogliono imporre la loro religione agli altri con terrorismo e violenza. Sono i principi delle nazioni quanti vogliono continuare a dominare sui più deboli, a discriminare le donne, a distruggere l'ecosistema nel nome di un progresso sociale che non arriva mai. Sono i principi delle nazioni, dice Gesù. E voi li volete imitare? Straordinario Gesù. Ha il coraggio di denunciare i mali del mondo facendo vedere ai discepoli che ne sono corresponsabili. Perché quanto vogliono è nella stessa direzione di ciò che spesso criticano e dicono di rifiutare. Perché a denunciare le cose che non vanno, a prendercela con i politici, con i superiori, con la tavola, a cercare le responsabilità altrui. Siamo tutti bravi. Campioni nella condanna del prossimo e nell'autoassoluzione. Nel mondo la ricerca del colpevole, del capro espiatorio a tutti i costi sta persino diventando un business che ingolfa i tribunali di cause. Gesù si rivolge a quanti fanno parte del suo gruppo e dice loro, e lo dice anche a noi, è questo che voi volete? Giudicare senza giudicarvi? E guardate che lo abbiamo assunto, io a nome vostro, dieci anni fa, ad Accra, insieme ai riformati di tutto il mondo, questo compito. Impegnare noi stessi, la nostra fede, le nostre chiese, affinché ciascuno e ciascuna senta la sua responsabilità nell'affermare una maggiore giustizia ecologica ed economica sulla terra. Oppure continuare a cadere nella spirale del finto moralismo, per cui a sbagliare è sempre l'altro e io sono a posto anche quando faccio le stesse cose? No, continua Gesù, non è così fra voi. Attenzione perché qui c'è la piccola chiave di una grande speranza. Gesù non dice non sarà così fra voi, oppure non dovrebbe essere così fra voi. Dice non è così fra voi, già adesso, in questo momento e in questo gruppo. E non è così perché Gesù è lì a pungolarli, a ricordar loro che un'altra strada è possibile e la stanno già percorrendo lì mentre vanno a Gerusalemme. È la stessa strada che stiamo percorrendo anche noi, fratelli e sorelle, la strada del discepolato, quella strada nella quale pur restando persone piene di peccato, affascinate dal mondo, dal potere e dall'ingiustizia. Ogni tanto Cristo si ferma e ci ferma, chiama intorno a sé la sua Chiesa e ci indica sempre di nuovo un'altra possibilità. L'invito di Cristo a vivere nel suo gruppo, nella sua Chiesa e a vivere dei rapporti diversi fra gli esseri umani è stato spesso dimenticato, anche dai cristiani, ma non è mai scomparso. Non è così tra voi e ogni tanto nella storia cristiana è riaffiorato. Faccio un solo esempio, anzi ne farò anche altri. Quando tutti consideravano la tortura, la pena di morte e varie crudeltà giuste e volute da Dio, non si può che rimanere ammirati, leggendo quando scriveva nel 1433 il nostro fratello Taborita, Nicola Biscupec. Notando come i grandi dottori indicavano per il tempo della legge e della grazia peni minori della pena di morte per punire i peccatori, desidero che i giudici si comportino come padri e non come tiranni nella punizione dei rei. Attenzione! Non attenendosi alla prassi giudiziaria della vecchia legge dell'Antico Testamento, né a quella delle leggi umane che sono nettamente discordanti dalla legge evangelica, ma considerando il modo di fare di Cristo e la prassi della Chiesa Primitiva. Confesso che, visto che non posso restituire vita all'ucciso, non godrò mai di tali uccisioni, né facilmente acconsentirò alla morte di qualcuno. Non è così tra voi. Vogliamo provare a dare valore a questa parola nelle nostre comunità, nelle nostre assemblee, nei nostri sinodi? Oppure continuiamo spesso facendo finta di nulla? A quale prezzo? È quello che stiamo rischiando nelle nostre comunità, quello dello svuotamento di senso. Un mio caro amico, membro di una nostra Chiesa in una grande città italiana, si è sentito dire dai figli, tutti usciti dalla Chiesa. Si è sentito dire abbiamo passato la giovinezza a sentire tu e la mamma che parlavate della Chiesa, dell'organizzazione, dei problemi della comunità, a lamentarvi del pastore che non funziona e degli altri membri del concistoro che non vi capiscono, delle assemblee da gestire come volevate voi. Che senso ha tutto questo? Certo, non sono ingenuo. La fede è sicuramente nel denunciare i mali del mondo, le ingiustizie e le storture sociali. La fede è anche nel tentativo mai finito di dressé l'Eglise, come diceva Giovanni Calvino, sì proprio lui che qualcuno ha definito un boia spirituale. Ma non hanno mai avuto molto successo fra noi quanti predicavano l'allontanamento dal mondo e il disinteresse dai temi sociali. Anzi, dall'impegno per i migranti, agli istituti per minori e anziani, alle nuove povertà, siamo profondamente impegnati nel sociale. Molti e molte di noi, pastori e non, lavorano duramente e quotidianamente permettendo alla nostra Chiesa di esistere e di essere presente nella città. Ma oltre a questo, la fede è soprattutto coscienza di appartenere al gruppo di quanti sono chiamati da Cristo. E appartenendo a questo gruppo, sapere di appartenere totalmente a Cristo stesso. Questo è l'orizzonte ultimo che spesso predichiamo, ma che rischiamo di perdere di vista nelle nostre Chiese, travolti dal mondo e dalle preoccupazioni. E se perdi di vista questo, ecco che potere, prestigio, ricerca di prevalere sull'altro, ridiventano centrali e le nostre vite cambiano direzione. Dovremmo riflettere sul nostro modo di essere comunità. Con gioia, grande gioia. Noi oggi consacriamo un diacono nella nostra Chiesa, ma non un pastore o una pastora. Non voglio parlare della crisi delle vocazioni, ma chiedermi perché tanti e tante giovani, soprattutto quelli cresciuti nelle nostre Chiese, rifiutano la prospettiva del pastorato. Non sarà anche perché non abbiamo saputo proporre modelli comunitari intensi, dove la centralità di Cristo si sente e si vive. Dove il non è così tra voi è qualcosa di emotivamente coinvolgente e non un semplice slogan che poi diventa una illusione. Perché vedete, fino alla mia generazione, per emozionarci bastavano la storia e l'impegno sociale. Ma oggi ci è chiesto di rivivere l'emozione dello star bene insieme, meglio che nel mondo sempre più feroce e ingiusto, per poter fare Chiesa e per poter servire. E per far questo allora bisogna messere da parte ogni desiderio? No. Cristo è profondamente umano. Sa che siamo persone piene di desideri, anche quello di primeggiare. Sa che abbiamo bisogno di un'arena, una palestra, nella quale vivere i nostri doni. Non lo nega, ma ci chiede di dar loro un senso diverso. Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Hai dei doni? Usali, non per schiacciare il prossimo, ma per sollevarlo. Vuoi essere primo? Tendi la mano per dare, non per ricevere. La libertà del cristiano è immensa, tanto da permettersi di criticare le regole sensate del mondo, anche quelle naturali. e la più naturale di tutte è quella che il più debole deve soccombere. No. Non è nelle nostre corde e nella nostra fede. Perché vedete, i mali del mondo li conosciamo, le guerre che anche oggi ci minacciano. Sono le terribili metastasi di tumori, chiamati potere, prestigio, denaro. E contro di essi vi è la sola cura del servizio e della solidarietà. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci sfidati a correre la gara del servizio. Come cristiani, di nuovo, siamo stati spesso ai margini di questa gara. Ma qualche voce, alle volte nella storia cristiana, qualche voce anche flebile, si è spesso levata per ricordarci che questa è la volontà del Signore. Sentite, seconda citazione e poi basta, come suona attuale questa sintesi. Se non perdoni non avrai salvezza. Nessuno deve uccidere né odiare alcuna persona. Non dobbiamo schernire lo storpio, né il sempliciotto, né il povero, né disprezzare lo straniero che viene da un altro paese. Perché in questo mondo siamo tutti pellegrini. Ma poiché siamo tutti fratelli, dobbiamo tutti servire Dio. Questa è la nuova legge che Gesù Cristo ha detto che dobbiamo osservare. bella sintesi moderna. Si trova nella Dobla Leigson, scritta dai Valdesi Mediovali nel 1400. Ma è possibile tutto questo? È possibile la prassi della Chiesa che deve sentirsi costantemente chiamata intorno a Cristo? È possibile l'etica della Chiesa che deve costantemente richiamarsi al servizio? Sì, ma solo se ha sempre presente il suo fondamento ultimo, la sua teologia. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita, come prezzo di riscatto per molti. di fronte a uomini di potere che nella storia hanno sempre detto armiamoci e partite. Di fronte ai politici che chiamano gli altri i sacrifici rimandando i propri. Cristo è diverso. La sua diversità sta nel fatto che è andato per primo ed è andato da solo, fino in fondo. La sua diversità sta nel fatto che l'unico sacrificio difficile da capire oggi, ma sensato e utile, lui l'ha compiuto da solo. Se mi passate la banalità del paragone. Quando ero giovane amavo molto andare in montagna. Un conto era percorrere sentieri nuovi, altro era passare dove qualcuno del club alpino avesse già segnato qualche roccia sui sentieri con apposita vernice. Non ti perdevi più. Prima o poi arrivavi in cima. Qualcuno ti aveva preceduto in quel cammino. Il sentiero del servizio e della chiesa ci è stato aperto una volta per tutte da Cristo e porta fino in cima alla vita eterna. Non c'è nulla da inventare. C'è una via aperta da seguire. La sequela tanto cara a Bonhoeffer è possibile perché Cristo ha sofferto quanto c'era da soffrire per aprirci questo sentiero del servizio. E questo ci è compiuto una volta per tutte. La sua sofferenza. La sua vita offerta per noi. Tutto è stato fatto una volta per sempre da Cristo. E lui non ha bisogno di emuli. Crediamo neanche di vicari e di altre morti e sofferenze. Perché questo è un po' un altro vizio che abbiamo nelle nostre chiese, soprattutto in Italia. Coltivare un po' la mistica della sofferenza personale. Perché essere chiesa è sempre essere arrabbiati, musoni, tristi e dire che va peggio ma domani andrà ancora peggio. Vedete, lo so che il mondo secolarizzato ama pensare questo, dei cristiani impegnati. Secondo aneddoto personale. Tanti anni fa ho subito un'operazione chirurgica. Un attimo prima della puntura l'anestesista mi disse sentirà solo un po' di dolore. E il primario, non avendo ben capito che strano mestiere facessi, ma intuendo che aveva a che fare con la religione, le disse vada pure dottoressa, che tanto questi se soffrono si guadagnano il paradiso. Un attimo prima di addormentarmi ebbe ancora la lucidità di dirgli non noi dottore, forse la concorrenza. Sì, sì, sì. Il mondo vuole che i cristiani si presentino sempre come tristi immagini di sofferenza e di pessimismo. E nelle nostre chiese siamo bravissimi. Ma c'è questo enorme fraintendimento, soprattutto nel nostro paese. Il cristiano deve soffrire. No! Cristo è morto perché il cristiano potesse servire. Lui ha afferto la sua vita perché noi nel servizio potessimo alleviare la vita altrui, non distruggere la nostra e avvelenare la vita delle comunità, caricando il prossimo di sensi di colpa. La Chiesa, la nostra fede, ciò che facciamo e siamo, tutto poggia su Cristo. Quando Lui, alla fine di questo racconto di crisi comunitaria, pronuncia le parole «ma per servire» e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, apre alla sua Chiesa un infinito orizzonte di possibilità. Quello di giudicare le storture del mondo, quello di tentare di correggerle col servizio e non col potere, e quella di sentire che in questo tentativo noi non siamo soli. Cristo è lì, Cristo è qui, si ferma ad aspettarci quando inciampiamo, ci istruisce sul mondo e sulla nostra vocazione e soprattutto ci dice «Vai, la strada è aperta, l'ho aperta io e nessuno la può chiudere». Sia l'ode al Signore. Amen. Grazie a tutti.